Una sparatoria lunedì pomeriggio in una stazione della metropolitana nel Bronx ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque. La causa è stata una lite tra adolescenti che ha visto uno di loro estrarre una pistola e sparare mentre il convoglio si fermava in stazione. La vittima è un uomo di 34 anni, dei feriti, quattro in gravi condizioni, due sono passeggeri minorenni, gli altri persone in attesa sulla banchina. La polizia di New York è ora la caccia di almeno un uomo fuggito dopo aver sparato ma si ritiene possa esserci più di un responsabile.